Arianna Comencini, direttrice di Copalto Garda, lascia l'incarico di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione. L'annuncio è arrivato in forma ufficiale ieri sera dal sito della Cooperazione Trentina e sancisce la fine di un matrimonio professionale durato quasi sette anni. Sembrerebbe essere una separazione consensuale, anche se la sua assenza alle ultime puntate nel confronto azienda-sindacati lascia intravedere una qualche delusione. L'ex direttrice, durante la sua carriera per Copalto Garda, ha affrontato gli anni difficili della peggior crisi commerciale degli ultimi decenni fino ad approdare alla difficile vertenza sindacale e al bilancio targato 2016 in rosso di 598 mila euro. Una nota pubblicata ieri dal sito della Cooperazione Trentina afferma La CUP Consumatori Alto Garda informa che è stato trovato un accordo con Arianna Comencini di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con reciproca soddisfazione delle parti. La decisione del CDA avviene in un contesto in cui la cooperativa ha avviato un importante piano di ristrutturazione finalizzata al recupero di reddittività e competitività. La congiuntura di mercato molto impegnativa, continua la nota, che la Copalto Garda sta attraversando, rende necessaria una riorganizzazione che sia in grado di sfruttare al massimo le economie di scala e le sinergie che la cooperativa può realizzare con le altre realtà appartenenti al sistema trentino della cooperazione di consumo. In questo contesto, conclude la nota della cooperazione trentina, la volontà di iniziare un percorso lavorativo nuovo da parte del direttore e la necessità di un ricambio auspicato dalla cooperativa hanno portato alla decisione, presa di comune accordo, di concludere una collaborazione fruttuosa durata per anni. Grazie.